Eccoci qua per presentarvi un nuovo tipo di lavoro che facciamo qua alla cronicceria primavera di Rovereto. Un puzzle, allora non è incroniciato, è effettivamente montato su un pannello, rifinito interamente a mano con la continuazione del disegno, come vedete, in questo caso è un quadro di Gustav Klimt, molto famoso, l'albero della vita, e abbiamo proprio rifinito anche tutto, come potete apprezzare, il contorno. Viene verniciato con la vernice protettiva, non serve il vetro, costo, allora, mille pezzi, questo è un 50x70, il lavoro completo costa 30 euro. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS